Si accascia al suolo e muore e mentre fa jogging è accaduto sulla pista dello stadio comunale di Montoro alla frazione San Bartolomeo. La vittima è Giovanni Basile, cinquantenne originario di Mercato San Severino, dirigente della Gesema SPA e presidente della Fondazione Teatro della città di Mercato San Severino. Come ogni martedì, Basile raggiungeva lo stadio comunale di Montoro per dedicarsi alla sua passione, jogging, ed anche oggi ha rispettato la sua routine. Dopo aver compiuto qualche giro di corsa, però, si è sentito male e si è accasciato al suolo. Sul posto, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montoro e il personale del 118 dal vicino ospedale di Solufra. Per il cinquantenne, però, non c'era più nulla da fare. Il magistrato ha effettuato l'esame esterno sulla salma e ha quindi ritenuto di dover restituire il corpo ai familiari. Profondo cordoglio è stato espresso da Giovanni Romano, primo cittadino di Mercato San Severino. Era come un fratello, ha spiegato. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, anche perché Giovanni era appassionato di sport e si sottoponeva a controlli frequenti. Grazie. 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 Grazie.